ciao ragazze ciao a tutti bentornati sul canale oggi come avete letto dal titolo spacchettamento in diretta di you glam la nuova linea di creme di cosmetici lanciate da lorella cuccarini io ho visto queste pubblicità appunto dove lorella parlava di questi prodotti dove parlava di questa offerta molto interessante che acquistando un prodotto se ne poteva avere un altro in omaggio erano prodotti già predefiniti cioè acquistando questo avrai questo acquistando questo avrai quest'altro però ecco siccome mi interessavano tutti avevo voglia di provarli ho visto che sono cosmetici naturali dermocosmetici tra l'altro quindi ho deciso appunto di fare il mio primo ordine è arrivato proprio oggi l'ho spacchettato nel senso che ho aperto il cartoncino poi stavo sbirciando mi ho detto voglio farlo in diretta allora arriva così con questo bellissimo cartoncino rosa bellissimo anche il cartoncino che poi è una carta fine non è un cartoncino poi all'interno c'è tutta questa pagliettina che ripara bene 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 i prodotti ce n'è veramente tanta l'appoggiamo qua e poi ci sono tutti i prodotti guardate che meraviglia bellissimi allora vi faccio vedere cosa ho acquistato il remove me tra l'altro io ho letto un po non sono stata lì ad approfondire sapete che io non sono quella troppo precisa quando c'è una cosa che mi piace parto e vado e acquisto questo remove me serve so che è un burro detergente struccante è sigillato non so se si vede nel video qui ci sono dei piccoli scotch che lo sigillano non riesco ad aprirlo vediamo un pochino allora togliamo uno ok adesso si apre ha il suo tappino di protezione mamma ragazze che buono è un profumo agrumato si presenta così ah lo sento è duro perché va beh fa ancora anche freddo però è molto molto soffice no quando lo tocco con il dito comunque caldo è molto soffice il profumo è buonissimo è agrumato mi piace veramente molto questo qua ragazze costava 25 euro è un burrone abbastanza grande perché sono 200 ml di prodotto credo che vada bene per struccare tutto anche gli occhi poi comunque è scritto in piccolissimo leggerò bene lo proverò perché spesso c'è scritto strucca bene anche gli occhi ma io con alcuni prodotti non mi trovo bene a struccare viso e occhi per le occhi ho quasi sempre bisogno del bifasico però vedremo lo proveremo sicuramente poi dei prodotti finiti lo censirò magari anche se vi interessa dopo tipo un paio di settimane io metterò subito in uso tutto perché ultimamente non ho nulla che mi piace in casa delle cose che ho acquistato più che altro la mia pelle che è reattiva è infastidita dei prodotti che ho quindi li metterò subito in moto però niente se volete appunto tra una quindicina di giorni posso fare una prima recensione e acquistando questo la promozione prevedeva che io avessi l'amido di riso il glow soft clean acquisti questo avrei in omaggio questo che è un detergente in polvere anche questo è chiuso da una plastichina che lo tiene sigillato diciamo così e vediamo come si presenta io un detergente in polvere non l'ho mai avuto abbiamo una spatolina e poi c'è una polvere proprio che sembra farina anche questo è profumatissimo ragazzi sembra quasi una cipria anche questo non so come si utilizza penso che vada preso pochissimo prodotto con questa spatolina visto che c'è però è veramente piccolina e poi vada miscelato con l'acqua comunque questo l'ho avuto in regalo praticamente 25 euro ho avuto queste due la parte diciamo struccante poi ho voluto prendere la crema la crema giorno la day cream white rose che è questa qua poi mi piace che tutto rosa e arancione sapete che sono rosa il mio colore preferito in assoluto con tutte le sue varie sfumature dal rosa salmone al fucsia fucsia al quasi bordeaux guardate che meraviglia è bellissima le confezioni sono in plastica protezione anche qua qua non sento profumo se c'è molto molto delicato crema piuttosto ricca andiamo un pochino però sono quelle creme ecco che diventano subito fluide come piacciono a me e che quindi vanno a penetrare molto velocemente nella pelle profumo non si sente anche spalmandola quindi molto bene perché ha una pelle reattiva perché io ragazze posso usare dei prodotti fantastici ma se profumano molto anche con degli inci eccezionali ma se profumano molto la mia pelle non li non li tollera e quindi devo prendere sempre questi prodotti comunque dermacosmetici sul naturale allora mi trovo molto bene poi ogni tanto spazio in profumeria vado a prendere altro in giro qua e là e la pelle reagisce questa molto buona ragazze tra l'altro ce ne vuole molto poca perché si spalma bene copre quel pochino commesso era più che sufficiente per tutto il dorso qui della mia mano comunque anche questa qui la proverò è una crema rimpolpante illuminante da giorno e acquistando lei ho avuto in omaggio la crema notte eccola qua la good night cream questa qui la apriamo anche lei è sempre sigillata quindi andiamo ad aprire qua ed ecco la cremina da notte bellissimi mi piacciono molto anche i packaging è praticamente uguale consistenza sempre piuttosto ricca adesso qua è sempre come quella di prima molto molto fluida che poi si sembra compattina però diventa subito molto molto fluida quasi acquosa quelle texture quasi acquose anche questa profumo impercettibile forse sta leggermente un pochino più di pulito rispetto a quella da giorno però molto mi sembrano molto buone entrambe qua tra l'altro quella da giorno mi si è già asciugata bene non appiccica e queste due le ho avute a 30 euro cioè ogni crema costava 30 euro ma acquistando per 30 euro la white rose da giorno ho avuto in regalo la crema da notte e poi ultime due cose ho preso il siero che questo mi serviva tantissimo con collagene effetto filler ho proprio bisogno di rifar riprendere un po' la mia pelle anche se devo dire che ultimamente sono riuscita a ho trovato in giro qualche campione che aveva ancora di yambal sapete che io amo molto yambal perché sono sempre dermacosmetici e hanno delle profumazioni veramente lievi e la pelle mi si è ripiliata un attimo però ragazza avevo una pelle che era diventata bordeaux mi erano uscite anche delle macchie perché stavo usando prodotti che non andavano bene però ecco siccome avevo voglia di cambiare un pochino e tanto che uso yambal ho trovato appunto questa marca naturale dermocosmetica mi sono buttata vediamo come va eccolo qua il siero col contagocce ed è un siero appunto effetto filler rimpolpante giusto no c'è scritto solo plumping cosa vuol dire rimpolpante io le parole piccole ragazze non le vedo più devo mettere gli occhiali al collagene comunque eccolo qui è un siero trasparente con il suo contagocce che andremo a provare e poi ragazzi insieme a questo avuto in regalo il sublime oil che spero sia un olio secco abbiamo sempre il sigillino andiamo ad aprirlo e voilà eccolo qua con ha dentro anche tipo delle pagliuzzine d'oro vedete e questo qua sublime oil effetto seta quindi dovrebbe essere un siero che si assorbe subito con scaglie d'oro c'è scritto quindi sarà un siero comunque illuminante rimpolpante leggendo un pochino così nelle descrizioni anche sul sito erano tutti i prodotti adatti appunto ad una pelle matura che ha bisogno un attimino di di una remise in forma come dico io e anche questi sieri costavano 30 o 35 euro l'uno acquistando il collagene ho avuto in regalo l'olio e anche qua sono stata molto contenta siccome l'offerta mi piaceva io ragazze le ho prese tutte e tre mi hanno messo anche dei campioncini una lozione sfogliante illuminante anti età juglo vita poi è una cell beauty crema intensiva corpo effetto freddo anticellulite molto interessante questa da provare in previsione dell'estate gel antiborsi occhiaie mi hanno vista dal telefono e un remove me un burro detergente struccante che è quello che ho poi ho dentro una cartolina la più amata sei tu grazie per averci scelto con l'immagine appunto di lorella cuccarini e basta la mia scatolina è vuota vede ragazze questo è tutto mi spiace che è arrivato solo oggi perché mi sembra che la promozione scadeva proprio nel giorno di san valentino spero che l'abbiate vista anche voi io adesso cerco di caricare subito subito il video così sia ancora valida se qualcuna lo vede vuole approfittarne insomma va sul sito e trova tutti questi meravigliosi prodotti io vi ringrazio per aver guardato il video un bacio e ci vediamo il prossimo video fatemi sapere se volete una recensione mentre li sto usando ciao